Sono Marta Vergombello, sono un'ora fa a Venezia. Il nostro laboratorio è aperto dal 1932. Prima ha iniziato mio nonno, poi ha seguito le sue orme mio padre. Dopo i primi anni di università sono arrivata qui anch'io nel 2001. Può dire che sia una tradizione di famiglia. Una volta a Venezia c'erano tanti lavoratori, i banchi erano fatti così. Qui c'era il seggiolino e c'era una lampada, una lampadina al centro molto grossa. Ognuno degli operai aveva davanti un fiasco con un piccolo traliccio pieno d'acqua e la lampadina, la luce passando attraverso il fiasco, concentrava la luce sul posto dove dovevano lavorare. Questi sono i disegni che erano realizzati da Pedrocco, questo signore da cui ha imparato a lavorare mio nonno, che realizzava queste miniature che venivano proposte al cliente come idea del gioiello finito. Si parte da un disegno che è realizzato a mano, non al computer, per poi arrivare all'oggetto finito, anch'esso realizzato completamente a mano, dalle viti a tutti i meccanismi, vengono creati a mano qui nel nostro laboratorio. Noi realizziamo anche delle spille, orecchini, anelli con dei moretti. Cominciamo a vestire il moretto con dei fogli di cera che poi vengono formati a caldo sul busto del moretto, vengono fusi a cera persa. Una volta fatta la fusione si fa tutto il disegno con una punta da segnare direttamente sull'oro e poi si fanno tutti i buchi, si fa il traforo, cioè si realizza tutto il sistema di bloccaggio con le viti per poter fissare i vari pezzi di oro sul busto.